Che vuol dire? Davvero è tutto qui il vostro esercito, Pedro de Valdivia? Se la memoria non mi inganna, l'accordo era a 200 uomini e qui ne vedo appena una ventina, la maggior parte dei quali briganti rinnegati. Cortes ha conquistato il Messico con 300 uomini e mio fratello il Perù con 100.